A Capodorlando negli ultimi consigli comunali si è discusso molto sull'inquinamento acustico prodotto nell'isola pedonale durante i weekend. Molti residenti si sono lamentati per il rumore, d'altro canto i titolari dei locali hanno ribadito il loro diritto al lavoro. Il primo cittadino in grillì è intervenuto con una ordinanza tampone in cui imponeva la chiusura anticipata dei locali, che ha scontentato più o meno tutti. L'ordinanza però dovrebbe essere rimossa a breve, ci sarà infatti un regolamento che dovrà essere approvato dalla maggioranza del consiglio comunale per disciplinare così le normative in materia di orari e di musica. Mi preme intanto dire questo, l'ordinanza che io ho fatto chiaramente ed evidentemente è un'ordinanza a tempo, è stata fatta perché in seguito a una situazione, definiamolo un po' caotica che si era determinato, c'era la necessità per evitare che potessero verificarsi anche fenomeni ai quali non possiamo porre limiti per cercare di tamponare per un periodo estremamente limitato il problema inerente, definiamola la movida o i problemi. E questo è servito, è servito perché nel frattempo già è stata elaborata, approvata in maggioranza il regolamento per quanto riguarda il suono pubblico, che comprende anche gli orari e comprende anche gli aspetti inerenti, la musica e il suono in sé. Adesso questo regolamento verrà proposto, verrà dato, trasferito anche alla minoranza perché è giusto che anche loro possano esprimere la loro, dopodiché passerà in commissione. Se nel giro di una settimana si riesce a tirare via un accordo complessivo e allora l'ordinanza verrà revocata, ma questo già lo si sapeva e che alle volte si ama anche fare polemica o cercare di cercare consensi con questi aspetti. Le modifiche al regolamento cosa prevedono? Tanto eventualmente un orario di limitazione, definiamola così, della musica, prevedono gli orari di apertura, ci sono tanti aspetti, prevedono il nuovo regolamento per quanto riguarda gli spazi pubblici. Ovviamente sono cose sulle quali io non dico di più. Nel momento in cui ci sarà una disponibilità ad accettare questo regolamento da parte del maggior numero di consiglieri, magari non si riuscirà a ottenere il 100%, io automaticamente ritirerò l'ordinanza, applicherò la nuova ordinanza fino all'approvazione del regolamento in consiglio comunale che può avvenire sicuramente entro la prima settimana di gennaio. Ma certamente Natale non ce lo faremo dentro.